Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio desidera donarti la vita. Vuoi tu accettarla? Le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. In che modo puoi tornare a Dio? Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. E mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Allora puoi tornare a Dio attraverso la fiducia in Gesù. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da Lui e cenerò con Lui, ed Egli con me. Sei disposto a lasciare i tuoi pesi, a lasciare i tuoi peccati? Sei disposto a pentirti. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. In questo momento puoi esprimere il tuo desiderio a Dio tramite questa semplice preghiera. Caro Signore Gesù, credo che Tu sei il figlio di Dio. Credo che Tu sei venuto sulla terra duemila anni fa. Credo che Tu sei morto per me sulla croce e hai versato il sangue per la mia salvezza. Io credo che sei risorto dai morti e sceso in cielo. Credo che ritornerai di nuovo sulla terra. Caro Gesù, io sono un peccatore. Perdona il mio peccato. Lavami ora con il tuo sangue prezioso. Vieni nel mio cuore e salva la mia anima in questo momento. ammoneO a Grazie a tutti